ciao a tutte anche questo video in collaborazione con la marco b di live band e sono come sempre alberta filava qui sotto troverete tutti i contatti per raggiungermi e in più chi vuole può venire sul blog dove troverà tutte le informazioni riguardanti video faremo un video già visto cioè trasferimento di immagine sulla gomma eva ma con un prodotto diverso e poi vi spiegherò starà facendo perché con le salviette leva smalto di questa marca ragazze terremo dice ripeto questa marca qui e terremo vicino comunque l'acetone allora prendiamo le nostre immagini stampate al laser ovviamente capovolte perché andremo a lavorare sul davanti sopra la gomma crepla allora perché usare queste salviette allora uno perché sono profumate rispetto alle altre e due perché hanno praticamente una sorta di olio all'interno che aiuta al trasferimento dell'immagine in più mi sono accorta ho visto tantissimi video quindi usano quasi tutte l'acetone che praticamente quando facciamo il trasferimento di immagine con l'acetone spesso e volentieri le parti più scure le parte nere le rosse escono come se fossero sbavate e sinceramente a me non piace quindi ho ho provato riprovato riprovato finché non sono aggiunta a questa conclusione a queste salviette e che avevo già perché praticamente per lo smalto se per sé però per lo smalto non mi andavano bene appunto perché c'era quest'olio e invece proprio il trasferimento di immagine sono l'ideale perché appunto nelle varie motivazioni quindi passo apro questa salvietta e metto praticamente il fronte sopra il foglio e poi passo questa salvietta ok prima di tutto perché ci faccio tantissime immagini insieme e non una secondo con l'acetone non so se è capitato anche a voi che il foglio su il foglio tende a sfibrarsi probabilmente bisognerebbe usare con l'acetone un foglio un pochino più spesso siccome io solitamente non guardo tanto allo spessore del foglio bensì al prezzo effettivo perché appunto perché siamo noi creativi stampiamo spesso e comunque la laser la usiamo tantissimo per tanti lavori quindi io preferisco sinceramente guardare il costo del del foglio più che allo spessore con queste salviette che vengono una cifra stupida perché sono sono della speed car vengono circa 2 euro e 50 faccio tantissimi disegni e riesco a mantenere grazie a quest'olio uno è foglio intatto due non ha quell'odore sgradevole dell'acetone e e poi praticamente perché ripeto ne sono dieci e ci faccio tanto tanti tante ne faccio tante praticamente tengo l'acetone vicino perché se un caso dice di fare tantissime immagini mi accorgo questa salvietta non basta o comunque quando la vado ad alzare il disegno praticamente mi accorgo che non si è staccato tutto allora quel caso avendo la salvietta finita praticamente lo uso perché tanto è proprio a fine lavoro eccomi qui allora ho passato l'immagine inizio a lavorare l'immagine una una eccomi qui chi vuole che volesse acquistarlo e purtroppo le ho sfuse in questo momento ovviamente le faccio pagare il prezzo di acquisto quindi 25 centesimi l'uno allora una volta che avete iniziato a bagnare alzate e controllate se si è staccato tutto il disegno se non si è staccato continuate a lavorare il disegno con la salvietta il bello di questa salvietta poi che praticamente passandola si appiccica il foglio perché un altro un'altra cosa fondamentale di i colori forti quando si passano con l'acetone si perdono diventano chiari non so se è capitato sbiaditi invece con queste salviette il colore rimane bello intatto però ovviamente dovete dovete lavorarlo vedete come sto facendo ora io giro fuori cambio cambio lato della salvietta e continuo alzo vedo se si è staccato tutto se non si è staccato continuo eccomi qui invece volevo dirvi a titolo informativo le basi che vedete medite in giro sono le mie sono quelle che creo io e basi torta non c'entra niente però mi è venuto in mente avevo detto marco bindi sono sempre io eccomi prima il mio marito ok e se volevo dirvi se avete bisogno di altro materiale come sempre contattatemi non sotto nelle messaggi chi vuole venga direttamente il messaggio privato con me tanto che rispondo a tutte tranquilla vi aiuto se riesco a procurarvelo io lo procuro io sono avendo link per ordinarvelo voi chi volesse questi disegni mi posso scrivere e per il passo in questo momento sto passando tante immagini sopra alla gomma ovviamente a gomma di reciclo ecco qui ci siamo quasi è ancora appiccicato eccomi qui ho fatto questo video comunque comune perché comunque a me l'acetone non va bene ragazza è il prodotto per fare il trasferimento se per se non costa troppo invece queste salite sono comodissime che danno ammorbidiscono anche le mani quindi fatte un'arte due pensate un'altra cosa la gomma deve essere principalmente bianca il mio consiglio spazionato perché spero come sapete tutte che le tutte le stampati non stampano il bianco quindi le parti bianche prendono il colore della gomma e se avete una scritta eccola qui questa è uscita la prima è fatta guardate quanto viene bella ok il rosa potete farlo pure con l'acetone perché passa subito perché comunque rimane chiaro quindi anche se si è lavato non è un problema dicevo la gomma deve essere bianca se dovete fare una scritta che ne so ops smacchia roba varia e volete cambiarli per finire dello sfondo benissimo quindi potete usare tutti i colori che volete però tipo in questo caso che ci sono i disegni per far vedere meglio le sfumature vi consiglio appunto di usare la gomma bianca io ovviamente uso quella di riciclo io una scatola con tutte i pezzi che non uso più quindi uso questi pezzi appunto per fare questa cosa perché vengono più luci è un lavoro di pazienza di tanta pazienza ragazza nei video successivo saremo questi stanzi di stanzi che sto facendo quindi di solito a vedere anche il prossimo che non sarà fatto nell'immediato perché sto creandomi tutti i pezzettini necessari staccata dietro la carta quindi però è uscito il disegno cito molto carino è uscito bene dovevo essere più precisa ma è poco male se vi accorgete facciamo un esempio che con la setone vi si stacca di nero e quindi diventano parti in questo caso non succede con questa sabbietta sapete che non avete bisogno di altro come vedete i disegni sono belli nitidi però se per caso usate l'acetone e vi vengono opachi e volete rimediare aspettate che si asciuga il disegno bene dopo di che passate lo smalto trasparente per le unghie aspettate che si asciuga ancora è andata avanti anche se sinceramente preferisco bravi salviette che lo smalto perché comunque un pochino lo smalto tende a spostare un pochino colore lì dovete stare molto attente invece così il vieto che vuole dire posso mandare io tranquillamente hanno un costo di 25 centesimi perché la scatola è di essere già un bagnato vedete quando hanno fatto insieme e sinceramente ne avrei potute fare tante altre perché voi ripeto se ci stanno che si asciuga tampona leggermente con l'acetone perché anche se si sfalda il foglio finito ok ripeto nel video successivo quando finisco a farmi strassi non mi ricordo il termine corretto perché per alcune cose mi piace l'effetto della classificazione quindi del del disegno rigido però per quello che andremo a fare personalmente preferisco il passaggio sulla gomma mantenere prodotto sul prodotto io qui ripeto non metterò lo smalto trasparente perché ripeto usando questo dietro non ne avete bisogno e questo è quanto innanzitutto voglio ringraziare tutte 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 perché comunque il video sulla base torta raggiunto 15.000 visualizzazione una cifra mai sperata ci sono dei video che hanno già comunque superato le mille visualizzazioni altri stanno si stanno avvicinando i nuovi video che vi sto mettendo un pochino a pressione mi rendo conto che le sto mettendo tantissimi perché suonando normalmente da diciamo settembre a capodanno che ci fermiamo è il momento in cui io creo di più quindi in questo periodo riesco a fare tanti tanti video come mi trovo a finire qualche lavoro vi faccio il video di conseguenza ripeto se avete bisogno di materiale venite tranquillamente su bertafilava ovviamente mandatemi un messaggio privato perché così cerco di capire bene cosa di cosa avete bisogno perché non mi piace spedirvi roba che non vi serve in più ho visto che molte ragazze mi stanno chiedendo l'invio tramite autobus quindi qualcuno di voi non vuole pagare la spedizione o ha bisogno gente di un materiale vuole andare una stazione degli autobus io sono di pescara quindi chi vuole può mandarmelo ora ho passato come vedete i disegni sono usciti benissimo sembrano appena stampati cosa che risultato che non avreste con l'acetone perché questo bisogna dirlo questo risultato è così scuro e così nidio con l'acetone non la vedete mai cioè non siete voi a non riuscirci bensì è proprio così a meno che non lo fate penso il cartoncino di stampa ma preferisco spendere 25 centesimi quando mi sarà anche perché sono chiusi no comprare premente cartoncini che poi io in giro per casa eccolo qui ma da ritagliare lo stencil io chiamo stencil ma non credo che si chiami proprio così e eccolo qui ovviamente non lo taglio tanto preciso perché voglio che si veda questo bianco perché voglio che risalte ancora di più colore quindi se io lo taglio preciso il disegno se lo sfondo il bianco si vede invece se io rilascio questo bordino bianco sembrerà proprio si vedrà sarà un colpo colperà subito l'occhio ora taglio con questi giusto un attimo voglio ringraziare tutti i blog e tutte le pagine facebook che mi stanno ospitando e grazie a tutti ripeto quando vedete marco bindi e la vendita di che ne so di basi torte come in questo momento ora bavaria sappiate che sono io ho messo il servizio di vendita delle basi già coperte perché ho visto che comunque qualcuno di voi fa difficoltà quindi basta che mi chiedete la grandezza della base tanto le stampo io le basi quindi non c'è problema e mi dite il colore della gomma e io vi la riempio e la mando già bella coperta e voi mettete le decorazioni invece chi ha bisogno di pasta di mais per le decorazioni delle torte può fare la stessa identica cosa io ve la mando bianca in quel caso sono io a mandarvela bianca volutamente perché siete sarete voi a dare la sfumatura alla pasta di mais in modo che è inutile che vi mando un panetto intero di rosa se poi voi dovete fare il rosa il marrone vi domando il panetto bianco e voi tranquillamente con come vi ho spiegato nel video di colorazione il chiaro lo farete con con gli acrilici e gli scuri lo farete con la polvere alimentare colorata ecco scusatemi vi sto facendo aspettare semplicemente per farvi vedere quanto sono belli da vicino che se non mi si andavano un po perdendo nel video successivo faremo una cosa carina con questi stanzi ferro carino devo creare un'altra cosetta che ovviamente quelle non vi posso spiegare inutile che ve la spiego perché c'è bisogno di un attrezzo abbastanza costolo quindi tempo materiale di finire questi faccio un'altra cosetta e poi praticamente facciamo il video quello potrete fare comunque acquistare sempre da me eccomi qui che dite ci riesco a togliarmi a dimenticavo prima praticamente di toccare questi disegni vi consiglio di farli asciugare perché comunque c'è l'inchiostro che si stacca in più considerate che noi abbiamo passato comunque un solvente quindi vi consiglio di aspettare l'asciugatura eccomi qui ci sono quasi forse riesco a tagliarmi per la fine del video perché devo stare attenta comunque a non mettere le dita sopra come vedete questo di questa gomma era disegnata disegno che molto triste io ovviamente a me non piace quindi finalmente ho trovato come utilizzare questa gomma e ne avevo comprata tantissimo perché stava in offerta a un prezzo stupidissimo però poi effettivamente non mi piace e quindi di conseguenza la sto usando anche perché siamo dice il bello di questo passaggio così ora ad esempio la lol è proprio quello che noi praticamente siamo abituati a vedere sul materiale in gomma il disegno lucido appunto perché lo possiamo nella nella plastificatrice invece facendolo in questo modo risulterà uno il lavoro più pulito e due è più particolare più fatto bene perché chi vorrebbe sopra la propria borsa o sopra il proprio cerchietto un un articolo che lucido o che comunque c'è una cosa plastificata ora va bene che sono prodotti molti molti prodotti per bambini però il fatto che siamo bambini non significa che non abbiano un gusto guardate che belli come sono belli scuri belli nitidi eccomi i datari li metto tutti guardate che belli grazie al prossimo video poi vi mando tutti la foto il video di tutto quello che sto facendo come potete vedere come qui piano piano mi porto avanti spero che vi piaccia il video grazie a dimenticavo iscrivetevi al mio canale grazie alla prossima